Facciamo parte di qualcosa che è diventato un fenomeno culturale mondiale. Ha conquistato così tanta gente e ha ispirato i giovani ad avvicinarsi alla musica e all'arte e a pensare di poter fare cose che prima non credevano di poter fare. È davvero bellissimo. High School Musical per noi è stato un trampolino straordinario. E' bellissimo che la musica abbia avuto tanto successo in tutto il mondo e abbia influenzato ragazzi di ogni nazionalità. È riuscito ad arrivare a tanta gente e a ispirare le persone. È la nostra ultima occasione di fare qualcosa insieme. A tutti nella vita capita di vivere esperienze meravigliose. Questa è decisamente la cosa più importante della noi. High School Musical unisce la gente di tutto il mondo. Rappresenta tutto ciò che vogliamo essere. Far parte di questo fenomeno è stata un'esperienza sensazionale. Sconvolgente. Vorrei che il tempo si fermasse. Questa esperienza è un sogno. È un evento epocale. È il vostro grande momento. Ballate per me, ok? Ovunque vada incontro persone di tutte le età che sentono di avere un legame con questo progetto. Ed è sbocciato in questo strepitoso film musicale. Un film nuovissimo. Il grande schermo ci dà molte più opportunità di sperimentare e di creare. Scenicamente sarà grandioso. Il diploma, il ballo, tutti vogliono vedere il film. Sarà fortissimo. Lo chiameremo signoria. Geniale. Il piano è stato un'esperanza di più opportunità di più 활동azione. Cosa è il problema. Ciò che le ha l'intervato. Vuole a andare in questo progetto. Ciò che ho poopo. Grazie.